Centinaia di persone sono sulla strada a Roma che dormono nelle stazioni, qui siamo alla stazione Tiburtina ma ci sono tante altre persone alla stazione Termini, negli insediamenti precari. Persone che in questo momento sono particolarmente esposte alla diffusione del coronavirus, ovviamente non c'è possibilità di approntare le misure igieniche previste, distanziamento e per questa ragione è particolarmente importante lavorare con questa popolazione in questi insediamenti. I nostri team stanno portando mascherine, stanno portando igienizzanti per le mani, stiamo lavorando con oltre 1500 persone solo a Roma che si trovano in situazioni di precarietà. È molto difficile lavorare in questa situazione ed è ancora più difficile quando mancano i presidi fondamentali, mancano le mascherine, mancano i saponi per le mani. Quindi il nostro appello è affinché chiunque abbia a disposizione questi presidi ce li possa dare.